Usato Minecraft, sono scemo. Ho usato Minecraft, ok? Eh sì, ho fatto. Ho usato Minecraft, ok? Non ci sono state prima per tutto Fortnite, grazie a Dio. Avrei pianto leggermente. Il codice ci avevi mandato qua. Grazie mille, M. Grazie mille, Poca. Grazie, Poca, per la sub. Bacetti. Alguien viene a usare. Si è danza come un stripper. Ok, il codice non si vede così? Posso già cambiare, perfetto. Ma a me non mi aveva mai caricato la storia della live. Cristo Dio Totta! Cosa? Mi hai distrutto un timpano! Ah, mi è muto su... Ora mi senti? Aspetta! Cosa? Come ti abbasso! C'è letteralmente la manopola dell'audio. Dov'è? Accanto al mio nome. Ok. Non è una manopola. Vabbè, quello che è, insomma. Penso che sia abbastanza visibile. Ok, penso che per adesso possiamo tenere in realtà disco. Ma io non ti sento, scusami. Fa quello, devo andare dalle impostazioni. Eh sì, vanno le impostazioni e metto il microfono. Devo fare esci, quindi. Eh sì. So, esci. Ok. Ciao. Allora. Opzioni. Eh, audio. Cosa dobbiamo fare? Allora, intanto io... Attivazione vocale. No, ma in realtà penso che sia... No, attivazione vocale sì, così non ce l'abbiamo, ok. Multigiocatore. Eh... Ah, sto gioco di merda che non c'è il... Qua, entra partita privata. Cosa bisogna fare di cose? Eh, l'hai insettato il microfono che parli sempre? Eh, ah no, ok. Attivazione vocale o sempre? Attivazione vocale? Eh, sì. Oh cazzo! Ok, ti abbasso il volume. Eh, è capito, è stata la stessa sensazione che ho avuto io. Eh, mutati, mutati, mutati su Discord, ti prego. Quando in... Ok. Ok, mutato su Discord. Sì? Ok. Eh, non ti sente. Bertra, dimmi. Dove devo entrare? Ah, entra partita privata, ok. È il codice che ha mandato tot. Esatto. Ti prego, ti muti, Leo, per favore. Te lo chiedo con l'inginocchio. Eh, ma z'è la Bertra che si deve capire come entrare. Adesso sono mutato. Ok, comunque sì. Oh, cazzo. No, no, ragazzi, mi sto caghicchiamo in mano. Alexa, accendi luce stanza. Ah, non c'è più Alexa, ops. Mi sento torta solo da destra, sì, e anche io sento torta solo da sinistra. Eh, oh, porca puttana. Mutati su Discord. No. Bertra lo sento da entrambe le parti, perché? Anch'io sento Leo da entrambe le parti torta da destra. Io vi sento entrambi solo da sinistra. Ma? Putta checchia. Va bene. Perché io do più... Ah, no, non sono più doppio. Ok, inizia a pareccare. Ma perché? Ma scusa un attimo, no, aspetta, voglio capire perché mi sento torta da sinistra. Ah, torta le mie orecchie, le mie orecchie. Non lo so, non ho idea. Eeeh, aspetta, sc... Io vado a essere... Porco, puttana, ti sei rimesso il volume alto. Cosa? Eh, ti sei rimesso il volume a cento. Quando è uscita Totta, non so perché. Il Mao. Io sono Bertra. Ok, io sono Leonardo Bru. Se assomigliamo a entrambe, se avessi gli occhiali sarebbe Top. Infatti, esatto. Ah, è perché il personaggio di Totta era a destra nella lobby. Il Mao. Vedi? Quasi si può muovere. Adesso tu mi senti che ti sto girando attorno, tecnicamente. Com'è che fai a muoverti? Fai Esc. No, Esc, non esci. Il tasto. Bertra. Era il tasto. Ok, eccomi. Eccomi. Lo so, era il tasto, Leo, me ne sono accorto. Ok. Mi mutate. Tardi, ma me ne sono accorto. Sono mutato? Oh, questi sono troppo io. Ragazzi, siamo noi? Ciao, Totta, ciao. Ragazzi, siamo troppo noi. Ti parlo intorno, ti parlo intorno. Ma dove state, scusatemi? Ti parlo intorno. Premi il tasto Esc della tastiera, non esci. Non esci. Ah. Ok, e poi muoverti. Per quello ci sentivi da destra, perché l'audio direzionale. E poi tu devi fare tu inizia. Non so come sono i tasti, però. Eh, infatti, neanch'io. Eh, a me non mi fa cliccare su inizia. Pronto, pronto. Eh, premi lo schermo con il tasto sinistro. Popi, popi. Ti apri la schermata. Non ce l'hai, inizia? No, è grigio. Eh, cosa dobbiamo fare? Ah, seleziona contratto. Eh, dobbiamo vedere. Allora, aspetta. Inizio a registrare. Sei tu il master, Leo. Stacca. Ok, io ho iniziato la recca. Ok, aspetta che io, due secondi che mi metto. Ok. Allora. Oggi siamo qui per odiare la nostra vita giocando a Fasmophobia. Un gioco a cui tipo nessuno di noi ha giocato, quindi ci cagheremo tutti in mano. Abbastanza odio tantissimo. Io, no, io in realtà ce l'ho giochicchiato una volta una partita con Al, ho fatto mezza partita e poi me ne sono andato. Basta. Ok, iniziate da Willow e la Super Basic, così imparate, dicono. Ok, Willow. Raccomandata per i nuovi a chiappa fantasmi. Lungo periodo di preparazione. Lungo periodo di grazia della caccia. Breve durata della caccia. Le pillole di sanità mentale ripristinano molta sanità mentale. Recupero a metà del valore del tuo equipaggiamento perso se muori. Già il fatto che ci sia qualcosa che deve ripristinare la nostra salute mentale mi fa piangere. Va bene. Andiamo? Pronto. Ho messo pronto. Oggi ho un'ansietta. Anch'io sono prontato. Io ho il doppio dei vostri livelli, ragazzi, quindi siate tranquilli. Cazzo è vero. Grande, Leo. Pronti? Andiamo? Sono prontata, vai. Vai. A me non piacciono i giochi di paura. È il momento giusto per dirlo, è vero? Che dobbiamo fare? Non posso più sentirli. Da questo momento non li sentite più perché sta facendo il caricamento. Dobbiamo tornare in partita. Da quel momento si potranno sentire. C'è Tota che sta facendo, raga. Tota? Ok. Ciao. Oddio, raga. Era il caricamento. Non mi sentivo più, ragazzi. È stato un momento bruttissimo. Allora, qua c'è l'equipaggiamento che non so però come si prende. C'è un tasto apposito ma non so qual è. Aspetta, opzioni? Opzioni, controlli? Ah, ok. Io sto toccando un sacco di cose. Oh, oh. Ok. Opzioni. I controlli. Movimento avanti, ok. Come è che lo lasciamo? Uso primario, uso secondario S. Lascia G. Raccogli E. Io voglio la... Uso secondario. Io voglio la torcia. Ma uso secondario e metto tasto sinistro, scusa. Torcia. Ah, la torcia ha raggiunto tra violetti. Ah, mi sentite? Io sto celando tu. Ok, senti? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. La torcia ha raggiunto tra violetti. Io ho una spirit box. Ho la torcia. Io ho una spirit box. Dimmi codici, Mason. Non riesco a tirar su niente. Ecco lei. La E. Ah, è la E. La E. Ciao, sveglia. Ma io uso poi gli oggetti. Allora. Io col tasto destro ce li ho. Come si prendeva il foglietto? Ah, ok. Obiettivo 1. Scopri con che tipo di fantasma abbiamo a che fare. Bertra, vieni a guardare gli obiettivi, tu che registri. Hai ragione. Scopri con che tipo di fantasma abbiamo a che fare. Bertra, Bertra, tu hai messo il microfono sbagliato dalle impostazioni. No. Hai un microfono lontanissimo. È quello che sto usando adesso in live. No, vai su opzioni, metti audio. Eh, sì. Che microfono hai? Quello giusto, Tota, non sono scemo. Eh, ti si sente male, amo. Non senso. No, con la G la lascio. Cini al covaccio. Eh, amo, sistemalo. Oh, oh, ti ho sentito anche doppio un botto. A torcia elettrica, T. Torcia elettrica, T. Cambio oggetto Q. Cambio oggetto Q. Eh, aspettate, vi sento doppi, raga. Eh, Bertra. Eh, Bertra. 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 Mi sa che non ci sente. Alta una mano in live se ci senti. Sì, vi sento, zio Pera. Ok. A posto, non è più doppio. Ah, ok. Eh, ma posso usare solo questo perché sennò non va. Ah, ok, va bene. Va bene. In chat dicono di usare quello default di Windows. Io non ho quello default di Windows. Eh, nessuno di noi ce l'ha. Appunto. Ah, con la rotellina cambiate gli oggetti che avete in mano. Io ho un libro. Oh, ho appena lanciato un libro. No, no, prendi il libro. La cultura è essenziale nel mondo d'oggi. Tieni, te lo lancio qua. Lo lancio sulla schiania. Ecco qualcuno qua. No, Bertra. Oh. Cosa, Bertra? Trova il libro che ho nascosto. Com'è che ci si accovava? Ok, quindi, che facciamo? Scusate, ragazzi. Allora, ci sono gli obiettivi. Leggi, Bertra. Scopri con che tipo di fantasma abbiamo che fare. Evita che il fantasma inizi la caccia usando un crocifisso. Assiste ad un evento paranormale con un membro della squadra. Purifica l'aria nei pressi del fantasma usando l'incenso. Ho fatto un po' di indagini. Sembra che il nome del fantasma sia Sharn Harris. Inoltre, questo fantasma sembra rispondere a tutti. Dovresti essere in grado di farlo arrabbiare chiamandolo per nome. Ottenendo così dell'attività paranormale. Sicuro che il consultorio di Tuckin annota qualsiasi prova. Sharn Harris. Non dirlo, non dirlo, Totta. Non devi dirlo. Ah, ok. Veramente, non bisogna dire il suo nome quando siamo in giro. Perché se no, l'alzato vocale serve per quello. Aspetta però che me lo scrivo. Che se poi magari ci serve, magari ce lo dimentichiamo. Grazie, Matt. Grazie, Matt, per la sub. Chi è che ha il crocifritto? Io no. Io ho il libro. Io ho la torcia ultravioletti e la torcia. Andiamo? Andiamo. Perché io ho la sanità mentale al 99% e poi al... Oh, oh. Andiamo? Andiamo. Tu dirlo, ti prego. Dove sei? Accendete la torcia? Con la T. Come si fa? Con la T. Non mi si accende. Ce l'hai solo te, Leo. No, ce l'avete anche voi sulla spalla. Ve l'avete accesa. Non va. Non va. Non dovete avere un oggetto in mano, mi sa. Com'è che non si hanno... Con la Q e con la Q li cambi. Ok, però ce n'è sempre uno. Io se schiaccio Q mi va torcia, torcia e non ho più niente. E vabbè, scialla. Mi seguo. Ok. Io ho la telecamera. È chiusa a chiave, raga. No. No. Io ho la scatola che mi dice l'attività degli spiriti e sto scendendo a pittà. Ok. Non vedo un cazzo. Ma come si accende la luce? Io ho la telecamera con la visione notturna, sborro. Oddio. Ho acceso la luce. Ho acceso la luce. Molto meglio. Sharn. No. No, stai zitto, stai zitto. Non l'ha detto, non l'ha detto per niente. Sharn. No. No, no, no. Allora, amico, devi sapere che... Harris. Sharn. Madonna, devi stare zitto. Madonna, ti chiudo fuori. Mi avete lasciato fuori, raga, come si entra? Sharn. Harry. Raga, come si entra? Spingi la porta. Ti hai riprevuto e spingi. Ragazzi, stai zando la cosa degli spiriti. Cosa vuol dire si stai zando la roba degli spiriti? Non lo so, sta al 94. Ho la spiriti. Cosa vuol dire sta al 94? Sta al 97, non lo so. Totta, verra? Sta 100, sta 100, sta 100. Cosa vuol dire sta 100? Non penso che 100 sia una cosa. Cosa bella. Sta 104. Raga, dove siete? Non mi vedo più. Sharn. Harris. No, spingi. Ti parla. Sharn. Harris. Bertra, smettila di dire Sharn. Harris. No, ragazzi. Non devi dire Sharn. Harris, Bertra. Sharn. Non dire Sharn. Totta, dì, non direi Sharn Harris. Leo, stai vicino a noi che hai la torcia. No, ma Totta, dicono che la spirit box non funziona così. E a cosa serve allora? Non lo so. Leo, perché non fai luce? Eh, non lo so. Fa poco nulla. Accendi la luce, scusa. Leo, accendi la luce. Devo capire dov'è il bottone, lo sta cercando. Sarà vicino alla porta. Eh, ma penso che qualcuno l'ha spenta allora. Aspetta, aspetta. Forse che c'è un bottone. Ah, la spirit box sarebbe per parlare col fantasma. Leo, è qua, è qua, è qua la luce. Dov'è? Eh, non posso, non ho le mani libere. Non hai le mani? Oddio, ragazzi, mi sta cagando in mano. Ok, accesa. No, non si è accesa. Ma non è accesa. Bene. Ma forse si è accesa qua dietro. No. Sharn! Porca puttana, Sharn. Non c'è la luce, raga. Non c'è? Sulla spirit box hai due loghi, una X e un fantasmino. Se la X si accende, se il fantasma vi sente, e il fantasma vi parlerà. Che figo. Oh. Leo, dove è andato? Ah, il fantasma ha tolto la corrente, raga. Bastardo! Sto in fame. E come la... Madonna. Dove devo andare tipo nel semiperrato, penso. Mi scusi, siamo quelli dell'Enel. Stiamo per Sharn Harris. Sharn Harris? E come la rimetto la luce? Eh, andiamo tipo nel garage, eh? Eh? Dov'è il garage? Non vedo un... Sto pocazzo! Io, raga, non vedo niente, purtroppo. Ma neanche io, ma neanche io che ho la luce! Io ho la telecamera con gli infrarossi, vedo. Che maho. Io aumento la luminosità. Oh! Ma, raga, ne vedo la luminosità, dalle tutt'azioni. Come si fa? Io ce l'avevo uno, tipo. Oh mio Dio! Ah, era quattro! Vedo! Ok, è già un buone. Luce! Eccola qua, questo mi sembra troppo un quadro elettrico, scusa. Eh, sì, però come la serviamo? Boh. Ah, ci dovrebbe forse in casa? Allora forse non è questo? Torniamo in casa, dai, ora che abbiamo più luce. Corro, corro! Ha paura, ragazzi. Ho sentito dei passi brutti, andate prima voi. Oh, qua si è illuminato tutto. Charn! Ah no, mi sa perché. Signor Harry! È in bagno? Occupato. No, permesso, permesso. Occupato. Ciao, Dotta. Boo! Ciao! Allora, ragazzi, dobbiamo perso andare verso il garage. Oh, è qua il garage. Dove sei, Leo? Qua, da qualche par... Qui? Segui la mia voce? Ah! Qui c'è il garage. Penso che ci sia... Da qualche parte del quadro? Ah, ma come si fa? Devo fare delle domande al fantasma con la spirit box accesa, aspetta. Oh, c'è una tavola gigia qua. C'è la tavola gigia. Oh, ce l'ho! Eh, Charn Harris, hai pagato le tasse? Raga, come si fanno a togliere le cose dalla mano? Non mi stai rispondendo, ragazzi. Come si fanno a togliere le cose? Con la G la butti per terra? Ah, oh no, no! Ho buttato per terra qualcosa. No, io ho buttato la telecamera. Ridatemi subito la mia telecamera. Dov'è che è il quadro elettrico? Se la lascio per terra. No, dai. Ma dov'è il quadro elettrico? Charn Harris, dove sei? Ho un martello. Ho un martello. Cosa me ne faccio di un martello? Oh, raga, c'è la X che si accende. Che significa? Ah, si sta aspettando. Charn Harris, sei qui? Charn Harris, are you here? Charn Harris, sei qui? Charn Harris. Per fortuna che Charn c'è. C'è un grande sogno che vive in Charn. È lui la gente della libertà. Allora, la X significa che mi sente, ma non è detto che sia qui. Interagite con la tavola. Interagite con la tavola. Eh, come faccio a interagirci? Ce l'ho in mano? Va messa per terra. Ok. Ah, ah, culo di totta. Lasciala per terra. Premi sinistra. Ah, ok. Charn Harris, dove sei? È passato un motorino fuori casa mia e mi sono cagato. Charn, dov'è? Charn. Dove va? Oh! So? Suga? Scam? Scam? Scar? Scared? Scared? Spaventato. Charn, hai paura? Vuoi un bacino? Vuoi un bacino? No, ragazzi, mi sta cagando in bar. Charn, are you scared? Sì, mi hai open up. Charn, dove sei? Charn, vuoi una... Ma in inglese penso che sia. Charn, Charn... Charn... Goodbye. Oh, porco due. Ah, abbiamo detto arrivederci e se ne è andato in mona il coso. Charn, are you here? Charn, where are you? È andato via il coso, raga. Ah. Cosa? È volato via il segnalino. Il pizzignacchero. Charn, are you... Are you mad? Are you angry with us? Leo, dove è andato via il coso? Abbiamo perso via il coso. Eh, ero qua, ero qua. Ero in camera da letto, scusate. Volevo andare a farmi un riposino. Volevo farmi un riposino in camera da letto. Ti vuoi la tavola col sinistro, dicono. Oh, fagli un'altra domanda. Fagli via qua. Dichi, scusa, come dobbiamo continuare col gioco? Leo, che fallito di merda che sei. Leo, che coglione. Oh, oh, sta, ti sento scared di nuovo. Eh, ben capito che c'è paura. Chiedi lì, chiedi lì, chiedi lì, chiedi lì se è qua. Cos'hai fatto? Cos'è sta droga? Togli la droga. Togli la droga. Scusate, scusate, la tolgo. Oh, raga, il mio... Il mio... Raga, raga, il mio rilevatore di cose è a due. È a due su cinque. Cosa vuol dire? Non lo so. Char Nerris, sei qui? No, non è qui. Char Nerris, sei qui? Oh, Leo? Eh, ho messo luce viola. Cerco le tracce di sprema. Ragazzi, ho troppo avuto, non ce la faccio. Andiamo in bagno, andiamo in bagno che cerchiamo le tracce di sprema. Ah, raga, fermi, fermi. Ci sono tanti... Cioè, stiamo guardando le cose. Stiamo vedendo... Sto vedendo sul taccuino le varie cose. Fantasmi, prove, fotografie... Un po' troppo pulito per essere un bagno. Qui qualcuno nasconde qualcosa. Se vai in bagno... Char Nerris, sei qui? Vado in bagno. Ma vuoi sentire parlare? Cos'è sto rumore? No. Raga, io sento parlare. Sì, anch'io, anch'io, anch'io. Char Nerris, sei qui? No, raga, non è qui. Come accendo il lavello? C'è solo una stanza infettata. Dobbiamo cercare la stanza infettata. Ragazzi, ho acceso il lavello, non so spegnerlo. Ho acceso il lavello, non so spegnerlo. Ragazzi, sto facendo un casino. Gli sto distruggendo casa. Sono in bagno. Sono in bagno, non so spegnere il lavello. Gli sto distruggendo i pavimenti. Questi mi denunciano, ok? Raga, raga, tornate indietro. Che cazzo è successo? Raga. Cosa? La tavola, la tavola gigia. Char Nerris, sei qui? Basta chiamarlo. Sì, non mi sapevo. Sì, è impazzito la spig box. È impazzito la spig box. Mi tocca, mi tocca. No, Bertra scappa. Bertra no. No, Bertra no. Bertra, che cazzo. Bertra sei morto. Io abbandono Totta. Io abbandono Totta. Totta per me è morta. Totta per me può essere morta. Totta? Bertra, Leo, dove sei venuto qui? Totta! Hai una foto al cadavere? Totta, non si può più aprire. Totta? No. Totta? Che cazzo è successo? Totta? No, aiuto, ti prego. Non si può aprire. Totta, non si può aprire. Eh sì, fai il giro. Fai il giro dal garage. Fai il giro dal garage. Sono bloccato, ho troppo paura. Entra, entra. Ok, ok. No, no, no. Via. Totta, Totta. Totta. Totta, no. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Sono da solo. Sono da solo. Sono. Io me ne vado. Io me ne vado. Io me ne vado fortissimo. Guarda, fa culo. Grazie. Arrivederci. È stato un piacere. Ci risentiamo. Guarda. Grandissimi. Top. Top number one. Sempre viva l'edilizia. Viva l'edilizia sempre. Arrivederci. Grazie, grazie. È stato bellissimo. Ci rivediamo subito. Leo? Potrei essere scappato leggermente. Leo? Potrei essere leggermente scappato dalla scena del delitto. Brutto fallito. Dov'è mica, Totta? Eh, non lo so. Totta non lo so dov'è. È brutto fallito, io sei. Non lo so dov'è, Totta. Totta. Scusate, sono su Discord. Ma io schermo nero, voi. Noi siamo in partita, cioè nella lobby. Rientra nella stessa lobby. Eh, io schermo nero, non mi fa fare niente. Eh, prova a rilanciare il gioco, allora. È il momento alto F4, ok, ciao. Torno. Sempre nella stessa lobby, no? Sì, sì. Sì, sì, sì. Madonna, Leo. Siamo scandalosi. Siamo scandalosi. Io non ho capito un cazzo, tu? Eh, zero. Poco nulla. Eh, ti sento doppio così. Eh, no, così no, non più. Poco nulla in realtà. No, non più. Eh, da capire. Dovete capire che fantasma è in base a quello che trovate. Sul taccuino c'è scritto tutto. Per esempio, se trovate cose che l'UV è un tipo fantasma, eccetera, dovete segnare tutto sul taccuino. Ah, sì. Ho capito tutto io. Certo. Prova a premere T. Ok, non ti fa niente. Ok, no, non ti fa niente. Vedo se ti spegneva la torcia. Ah, qui abbiamo tutte quante le robe. Sì, io non ho capito un cazzo di sto gioco. Bro, sto qua il gioco, quello... Bella, raga. Questo gioco qua, Bertra, vai forte in America. Ti spiego. Tu devi lanciare il sacchetto e fare coso nel buco. Cioè, guarda, puoi... Preccio che puoi prenderlo, il sacchetto. Ok? Sì. E devi... Devi lanciarlo. Con la... Con la G. Ok, in America fanno sto gioco qua, sedendosi sotto. Ne mettono uno davanti e uno dall'altra. E se fai centro, becchi le balle dell'altro. Sembra un po' più un tuo fetish, questo. No, 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 c'è, 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 questo gioco, me lo ricordo, l'ho visto benissimo. Raga, ora che facciamo? Riproviamo. Ok. Allora, ci dicono, seguiamo un po' i consigli della chat. Per prima cosa dovete trovare la stanza infestata, poi con gli attrezzi trovi le prove. Ok. Ok. Putta, perché c'hai il disco? Seleziona il contratto. Rifacciamo sempre lo stesso? Eh, sì. Eh, mettiamo intermedio, già che abbiamo capito com'è. Ma no, chi cazzo ha capito com'è? Vai, vai, intermedio, capito, vai. Pronti? No, non mettere intermedio. Pronti? Metti facile per i falliti. Let's go. Via. Metti facile. Metti facile. Vai, pronti. Pronti, si parte. Comunque dicono che la stanza infestata è la stanza con la più alta attività paranormale, di solito è la più fredda. Se dovete fare domande con la spirit box. Se dovete fare domande, ok. Con la spirit box. Dite solo il suo nome. Esatto. No, non dite il nome, fate solo le domande. Non dite il suo nome. Ok. Quindi startate con M. Ho fatto, ho fatto dilettante, ragazzi, ho fatto dilettante. Leo, non hai messo intermedio. No, no, è dilettante, è dilettante. Ma non abbiamo il termometro noi, questo è un po' un problema. Eh, oh, il taccuino. Come si apre il taccuino? Jay. Jay. Allora, prove. Oh, io ho la torcia. Ah, ci sono i vari tipi di fantasmi. Spirito. Di spiriti sono fantasmi molto comuni, sono molto potenti ma passivi. Attaccano solo quando è necessario. Divene il loro luogo di morte al massimo grado. Cioè, chiunque venga sorpreso a trattenersi troppo. Sapeva molto tipo quello che abbiamo appena affrontato. Ma ci sono tipo 20 fantasmi. C'è 20 tipi di fantasmi. Sì. Prove ottenibili, eccolo qua. Allora, a caso. Assisti ad un evento normale con un membro della squadra. Raggiungi una salità mentale media sotto il 25%. 100. Ah no, sono opzionali, ok. Oggetti. Cazzo ai fantasmi. Allora, vediamo cosa dice qua. Ho troppa luminosità ora. Allora. Scopri con che tipo di fantasma abbiamo a che fare. Assisti ad un evento pranormale con un membro della squadra. Raggiungi una settimana... Oh, sì. Una sanità mentale media sotto il 25%. Fai camminare un fantasma sul sole. Questo si chiama David West. Ok. Me lo scrivo. David West. Kenny West. Tu cosa sei? Sei la torcia Uv? Come faccio a prendere questa torcia qua che non ci arrivo? Ok, l'hai presa. Presa, presa. Ah, questa è quella infrarossa. Io ho la torcia e la spirit box. Ah, non posso avere... Ah, puoi avere due robe solo. Questo cos'è? No, puoi averne tre. Ah, io ho il taccuino, vero? Il taccuino serve, eh? Eh, sì. Se il lettore è MF che arriva a 5 lucino, allora dovete metterlo nelle prove. Ok, ok. E come si fa a metterlo nelle prove? Ah, penso che sul taccuino. Premi J? Prove, sì. C'è prove. Sì, c'è MF di velo 5, puntatore dots, sfera di luce... Ma raga, ma raga, qua c'è la mappa della casa. Sì. Ah, hit. Ok, possiamo andare. Ci dicono anche ogni tanto di tornare per aumentare la nostra sanità mentale. A me continua a non accendersi. Ho io la torcia, tranquilli ragazzi. C'è la torta, c'è la torta. Come si chiamava questo? Ok, no, me lo ricordo. Me lo ricordo. Aspetta, accendo le luci al volo. Ok. Ok, ricordiamoci che se usiamo la tavola gigia bisogna... Ok, ok. Non dire arrivederci. Se no si rompe. Aspettate, faccio una roba. Fermi, fermi, faccio una roba. Sto accennando tutte le luci. Ok, ok. Vediamo se il mio coso... Guarda le impronte, guarda le impronte digitali, esatto. In bagno, in bagno, sul gabinetto. Sul gabinetto che quello è uno zozzone. Vediamo, vediamo. Non gli dire queste cose. Quello è uno zozzone, la sera va a masturbarsi in bagno. Non gli dire queste cose, non lo fa babare. Allora. Ok. Oh. Mi hai un po' spaventato, ammetto. Scherzo. Ok, luce. Qua sotto c'è il semi interrato, raga. Qua c'è il semi interrato. Non ci andiamo. Non ho intenzione di andare là sotto. Mai nella vita. Proprio neanche se mi paga. Questo cos'è? È un profumo questo, ragazzi. Cosa? Ho un profumo, penso. Che cazzo fa questo qua? Ah no, è quello che lanci per terra e fa tutte le cose verdi che ho fatto io prima. Allora, appena trovate... Prendilo. Appena trovate la stanza infestata, mettete il libro che è là per terra. Riprendilo. Ok. Scendiamo giù. Dovevi trovare la stanza infestata. Perché volete andare giù? Perché volete... Io, raga. Dove siete? Ci sono. Ok, ok. Raga, qua c'è un cerchio di satana. Cos'è il cerchio di satana? Ho letto prima. Questo, se lo attivi, il fantasma ci entra e ci sta dentro. Intrappolato per un po'. Puoi fargli la foto, ma dobbiamo scappare in fretta. Ah, ho trovato anche il contatore. Se serve dopo. Secondo me potremmo farlo. Io ho la macchina a foto, raga. No, evitiamo, dai. Come si attiva? Come si attiva? Respira, Bertra? No, non respiri freddo. Eh no, perché in te nel gioco c'è scritto che se stai nella stanza... Sì, sì, è vero, è vero. ...respiri freddo. Ah, bisogna solo un accendino che non abbiamo al momento. Ah, fuck. Io ho il coso... Conta onde gizze. Non mi sembra. Non mi sembra cosa? Io ho il contagiso, non ce l'ha, non va niente, il contagiso. Non è che magari sopra? Posso fargli, provo a fargli una domanda? Aspetta, andiamo sopra. Aspetta, andiamo sopra. Ok. Ragazzi, non abbiamo soldi, non possiamo comprare gli oggetti. Abbiamo appena iniziato, è la prima, tipo la seconda partita. Ok, io chiudo le porte nel mentre. Io sto andando a vedere le varie stanze, se fa qualcosa. Ho un cellulare. Eh, allora io, scusate. Sono cagato in mano, tutto. Qua non c'è nessuno, raga. Non c'è, non c'è neanche un fantasma, secondo me, in questa stanza. Possiamo anche andarcene. Vai in bagno e apri il lavandino, dicono. Oh, ci sono delle macchie. Fermi, 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 rimanete qua. Rimanete qua. Rimanete qua. Sei qui? È in inglese. È in inglese. Sperta, illumina qua. Dove? No, mi è perso di vedere delle impronte. Guardate sui tipi delle porte, sulle porte, tipo. No, ok. Sulle porte no, però con lo specchio sembra un po' sbordato. Eh, raga, scendiamo giù ad attivare la luce. Contatore. Vai, Leo. Perché vai, Leo? Perché hai scelto che è Leo che deve attivare la luce? Perché io sono scesa prima. Vado io, raga. Ho zero rispetto per la mia incolumità, io. È questo qua, russo. Ok. Vai, vai, è acceso. Ok. Ok. Corro, 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 corro. Ok. Salve, sono della folletto. Ho sentito roba muoverci, non mi piace. Ok, ho acceso la luce. Questo stanzo? Raga, mi sentite tramite radio? Sì, ma dove stai? Come si attiva la radio? L'acqua. L'acqua l'ho acceso io prima. Raga, venite qui, sento rumori strani qua. Venite qua. Venite nella stanza, raga. Ah, ecco che cazzo sono i rumori strani. Eh, pare proprio un fantasma, eh. No. Are you here? Leo, come hai fatto a salire? Are you here? Camminandoci. Ok. Sei qui? Non so, di che lingua è? Eh, allora, il coso non fa un cazzo. Io tornerei magari in furgone a vedere come la nostra sanità mentale. Sì. Ok, ci sta. Ma secondo me è tranquillo. Cioè, la mia Irla è tranqui. Vedo l'uscita, vedo l'uscita, vedo l'uscita. Corro, corro, corro. Ok. Ho parlato prima. Era Leo quello prima. Come si parla con il walkie talkie? Quindi se ti parlo così mi senti sempre? Anche così, vero? Ok, perfetto, sì. Mentre, tu talk? Io sto benissimo. Ok, bene o male sì, siamo bene. Questo allora... Perché si sta abbassando? Ah no, ok. Quello non serve più a un cazzo. Non ha mai sconato nulla. Quindi non lo fa lui il... Il geyser. Ma quindi che dobbiamo fare, ragazzi? Tornare dentro e cercare altre prove. Allora. Non mi piace questo gioco, vi dirò. Cos'è questa cosa qui che avete lasciato? Eh, l'ho lasciata io perché non faceva niente. Enf 5 direi di no, non lo fa. Impronte digitali, libro spiritico. Come funziona il libro spiritico? Guarda il grafico. Il grafico è piatto. All'attività. Boh dai, riandiamo. Riandiamo a sto punto. Andiamo. Dov'è il mio Geiger? L'ho preso io l'empo. Ok, va bene, va bene, va bene, ok. Lo vuoi? No, no, tranquilla, tranquilla. Se no, facciamo di qua, raga. Venite di qua. Come si usa il mio? Venite di qua. Eh, ma non si può entrare da quella. Magari c'è altro qua. No, 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 l'entrata è solo questa. Ah, io ti metto il bel libricino. Metto il libricino qua. No, c'è scritto che risponde solo se le luci sono spente. Come lo piazzo il libro? Con che tasto? Con il destro, sinistro. Con la F, con la F. Ok. Io lo lascio qua intanto. Vediamo se ci scrive. Ora solo profumo che non capisco che cazzo serve. Amici? Amici? Dove siete? Ingeraggio. Che è? Oh, oh, oh. Altissimo, altissimo. Che è morto? Uno di noi more. Uno di noi more. Uno di noi more. Io esco. Io esco. Guardate, vaffanculo. Eh, Bertra, morirà Bertra. Sto bene. Il mio libro. Sì, è decisamente il garage, il posto infestato. Il mio libro. Mettiamo il libro in garage. Esatto. Vado, cosa vuoi che succeda? Io ti filmo tanto. Divertiti. Vai. Leo. No. Leo, vai. Vai, io sto filmando. Eh, non so più dov'è. Lei è caduto per terra? Ok, ecco. È lì. No, quello non è un libro. Mi ha passato il contatore. Ma? Ma? Si sposta sta cosa? Grazie, Simone. Arrivo. F, ok. Cos'è il dot? Cosa devo farci con sto fare qua? Voi lo lascio lì, magari fa discoteca. Raga, come si piazza la videocamera a terra? Raga, che cazzo mi ha chiuso qua dentro, porca madosca? Cazzo, è come si molla. Come si chiamava? Ah, quando, raga, quando il fantasma sta per attaccare... La macchina. Vado a rubare una macchina! Raga, quando il fantasma sta per attaccare, nascondetevi e non parlate più. Come spengo la luce? Vai via con quella torcia. Come spengo la mia torcia? Non lo so. Vai, date, bravi! Vai, Bertra, si! Ok, fatto. Ha scritto qualcosa sul libro? Fa culo. Cosa? Ha scritto qualcosa sul libro? Vado un attimo verso il furgone che voglio vedere come si chiamava. Parlatemi con B che sono lontano. No, non ti parlo. Sto arrivando, Leo. Oh, guarda, un bozzo di attività, raga. Oh, ma così vedo Leo. Vedo Bertra, scusatemi. Ok. Bertra, attento, in quella casa c'è David West, David West, c'è David West in questa casa. Ah, raga, mi sentite? Sì? Ragazzi, io posso vedere la vostra visione da qui e posso attreverla la visione notturna. Bertra, guarda il taccuino se c'è qualcosa. Ora resterò qui e vederò cosa fare. Ce l'ha scritto qualcosa sul taccuino? Bravi, continuate a guardare per terra. Bertra, vieni con la luce qua. Ma il fantasma può arrivare fino a qua? Eh, sì. Sì, si può prenderti dovunque. Come faccio a mettere giù la cam che scrive, raga? Cioè, che registra? Eh, ecco l'F. Torno da voi, raga. Non registra. David West! David West! Ah, no, nel furgone non mi devo prendere. C'ho un libricino! C'ho un libricino! Vieni a scrivere! David West! Come! Come, right! David! Where are you? David, David, come! Come, David! Come, come! Davide! Oh, c'è Davide! C'è Davide! C'è Davide! Mi ha litato in faccia! Davide, mi ha litato in faccia! Davide, mi ha litato in faccia! Oh, no! Oh! Merda! Merda! Perchè parli da Boki Toki che siamo tutti qua? Scusate! Ho solo tanta paura! Allora... Wow, Davide! Davide! T'ha già lasciato un libricino! Ha fatto il disegno? Wow, Davide non gli piace disegnare! No, non c'è prendere il libro! È di Davide! Come and write! Raga, nel taccuino c'è scritto se lo spirit box se lo deve usare solo qualcuno o tutti! Bastardo! Non l'avete capito, raga? Aspetta! Ah! Ah! St'arrivando, st'arrivando! Ha rotto qualcosa! Sì, sì, la quarta parite! Ehi, are you okay? Do you hear me? Eri tempo, Leo, vero? Sì, sì, a fare A, sì! Ah, ok, mannaggia! Vi ha spaccato la lampadina! Sì, infatti non si accende più! Eh, lì dietro il furgone c'è un penny, Bertra! Vado, vado a prenderlo! Vai, vai! È lì? C'è il penny? Ho preso il libro, ma come faccio a guardare? Ah, non c'è scritto niente, allora! Raga, ma scusate, alla chat, se io sto da sola e... Ok. Are you here? Forse devo stare da sola, raga! Va bene! Eh, voto il chiudo! Le luci? Chi ha spento le luci? Quel cazzo! Quel cazzo che fa da sola! Totta, devi andare da sola! Ok, basta, raga, vado da sola! Mi faccio coraggio e chiudo gli occhi! Se la vuoi fare, Totta, sì, devi andare a te! Dammela, dammela! Ci parlo io, ci parlo io, dammela a me! Ci parlo io! Ci parlo io, dammelo! Dai, tieni, per la live, il content per la live! Eh, tieni che se muoio prendermelo la torcia! Dove è la torcia? Noi ti guardiamo da qua, eh! Qua, Davide! Davide! Davide, are you here? Qua! Anche venuto per parlare! Davide! Davide West, are you here? Davide, sei qui? Magari non ho fatto la scuola americana, Davide! Davide, sei qui? Ma che cazzo hai fatto? Davide, are you here? Davide! 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 Davide West! Davide West, where are you? Davide West! Davide West! Davide West, are you here? Finito le foto, raga, sono un babbone! Davide, è 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 un babbone! Questo gioco è molto strano Stavo riavviando la cam Ah ok David 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 è nell'angolo che ti aspetta mentre riattivi la cam David Chiedi chi dov'è Chiedi chi dov'è Andiamo a riattivare la luce È qua, è qua Mi ha sussurato nella Mi ha litato Eh fagli una domanda Non trovo l'uscita, sono in full panico David David Mi parla Mi parla L'ho visto L'ho visto L'ho filmato, è una prova Più o meno lo capisco David Sta cercando di riposare gli urlati addosso a Haka Sono io la prova Non dovevo uscire di casa Non dovevo uscire di casa Non ti vengarmi Berta torna nel furgone Sto facendo sesso con Leo Perché mi ti vengono Berta Stavo facendo sesso con Leo Sono morto Ma la mia sanità mentale è bassissima frate Guarda la mia frate E che possiamo fare per alzarla? Tu? Se vedebbero le pillole Beh che fa il selfie di Leo morto dicono E non ho più scatti Zero? Eh no Ah in una c'erano le impronte digitali E in una un osso E non me ne sono accorto Ma dove? Ma? In delle foto Impronte digitali Posso vedere se Io se vado in casa Posso vedere se c'è il libro di congelamento C'è il libro? Ciao Davide sono come te ora Sono il nuovo inquilino Non ha scritto giusto sul libro Sul libro non ha Davide sono il nuovo inquilino E me Lo facevano alto Sì sì Una volta A 5 A 5 o no? Sì sì a 5 Ora parlo su discord Quindi o è uno spirito o è una right Il puntatore dots non si è mai attivato Quindi è uno spirito Ok Sono potenti ma passivi Attaccano solo quando è necessario Sono passivi Leo sei un coglione Ciao Leo Ah lui non ci sente No No in realtà sì Sì che mi sento Allora quindi uno spirito Può essere fermato temporaneamente Bruciando l'incenso vicino ad esso Eh ma non abbiamo l'accendino e neanche l'incenso Tu 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 Suono fantasma Cerchiamo su Non so come si fa Fai camminare un fantasma sul sale Quello non lo faremo mai amore Vado a prendere il sale Andiamo totta Attenzione questi effetti horror Fanno un sacco paura Cosa? Vieni qua Aspetto che entrano in casa Appena entrano gli metto gli effetti horror Che vedi qua ancora non ci dice Scopri che è fantasma Io le ho mette tutte Fanno anche tutte Oh Gli metto la musichetta Gli metto la musichetta appena entrano in casa Le impronte digitali ci sono Ah no quindi non può essere uno spirito Ma che cazzo Eh allora Spiritbox c'era E allora non può essere niente Non ha senso Abbiamo sbagliato qualcosa Eh la spiritbox ha parlato Le impronte digitali ci sono Spiritbox parlate Le fotografie ci sono Le impronte digitali Libro spiritico no Ma forse non era l'MF livello 5 Phantom mimo Putatore dozzo non andava È il mimo È il mimo È il mimo Ma non posso dirglielo È il mimo Perché il putatore dozzo non andava niente Lo spirito libro neanche È il mimo È il mimo È il mimo Il mimo cos'è? È il mimo È il mimo Una farrabia Spirit spirito Eh ma non ci sono Il phantom qual è? Eh il phantom è Le sfere non potete saperlo Sì ma inteso Il puntatore non ha risposto niente E il libro non ha scritto Quindi li ho eliminati Non è il nostro E abbiamo queste due qua È il mimo ragazzi Noi abbiamo messo la cosa Abbiamo sbagliato qualcosa Perché la spiritbox ha parlato Per forza Non posso dirlo Però perché sono È abbastanza sicura Che l'MF abbia fatto il panico No Le impronte digitali ci sono Può essere solo il phantom a sto punto L'MF mettiamo nullo Eh sì Aspetta era il puntatore Dozzo O l'MF che non andava Ma anche forse è il mimo Ma il puntatore non c'è stato Il puntatore non andava La spiritbox Siamo sicuri Soltanto delle impronte digitali Dello spiritbox Il puntatore Il puntatore non andava Quindi può essere un poltergeist Un mimo Mimo Però la temperatura di congelamento Non c'era Guarda glielo chiedo Pro Sei un mimo Ha detto di sì È un mimo È un mimo Eh no però Guarda Ancora è così Sti cazzi L'hai selezionato il mimo? Mi do Ma perché dove sta andando? Scusa Ciao L'avete messo? Era un gorio? Era un Cosa? Che cazzo è il gorio? J Eh non posso vederlo da qua A noi usciva il poltergeist A me sapeva di mimo No il mimo no perché Aveva fatto la box Eh Ma come? Ma sì che ha parlato raga porca puttana Ha parlato ha parlato A me parlava Aveva detto mi parla Sto andando Eh sì io anche l'ho sentito parlare Compriamo delle cose raga Compriamo Scusa raga mi ha fatto troppo ridere Alex Mi ha fatto troppo ridere Alex Che ha scritto non era Mimmo Non era Mimmo Che strano Si è illuminato il fantasmino chiede a Tilio Ah il puntatore Dox non ce l'abbiamo noi O sì? Era quello lì Era quello verde Che fa le lucine A Un termometro Sì ha senso Ah ha parlato ma non nella spirit box Io ho comprato il termometro Ah l'avete sentito anche voi? Eh sì Ah fuck Io ho sentito Pensavo avesse parlato solo a me Ah ok niente Io ho preso il termometro Ho comprato Facciamo sempre Willow Sempre direttante? Sì 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 Direi di sì Ok Totta è uscita Come Totta è uscita? Totta ha fatto un alt F4 Mi sa Ciao Totta Raga scusate Ho premuto Esci per sbaglio Ah io sono pronto Ah comprate il termometro e torce Io ho comprato il termometro Ah la torcia la torcia La torcia Elettrica giusto? Acquista Torcia Ok Torcia Due secondi che la prendo anche io Torce elettrica Acquista Ok quindi ora abbiamo tre torce Dagli Ok E un termometro Ok Ok pronto Carino comunque questo gioco È molto più complesso di quanto immaginassi Vai via State ancora reccando Perché io ho smesso mezz'ora fa Perché? È stato il fantamma Ah vaffanculo Vai iniziamo Ciao Allora Dov'è il termometro Dov'è le robe che abbiamo comprato? C'è solo una di torcia Non l'abbiamo aggiunta mi sa Abbiamo solo comprata senza aggiungerla Ah vabbè usciamo Red grazie Eh no Eh vabbè intanto andiamo Intanto andiamo Allora scopri che è fantastico Ma mi dura mezz'ora una partita eh Eh ce la possiamo fare dai Ma dai ma usciamo i valori Prendiamo e torniamo Eh ma perdiamo soldi Dai raga No Che soldi prendiamo Quelli che non abbiamo guadagnato Dai Ma perché state andando? Ma perché devi Perché devi aprirlo E chiuderlo Tranquilla Io pensavo Io volevo cliccare su esci normalmente Eh no Penso che te ne vai e basta Ah non abbiamo aggiunto il equipaggiamento Ok Io Io Raga voi cosa avete comprato? La torcia io ho preso Io ho una torcia Io ho preso Ah eccola eccola qua Torcia E termometro Io ho preso il termometro Io ho aggiunto il termometro Ok Ok sì Adesso c'è Adesso c'è Adesso ci sono Due termometri su tre No allora solo uno Solo uno in meno Cioè uno Uno lo tolgo Ok Che cazzo ha comprato due termometri Scusa E uno io Uno per tre Perché l'avete fatto? Ma adesso c'è un botto E ok Non posso mettere Ah seleziona contratto Questo Ma raga ma io di nuovo 50 dollari scusa Mi si è buggato V Ora prendo La torcia potente Ah no Niente Ma no Non serve la torcia potente Eh no L'avevano detta prima in chat Allora compra Se Fotocamera è quella figa Ah C'è il sale Posso prendere il sale No l'ho già preso io il sale L'ho preso io Ah ok Takashi Tenchain E Gli vati i soldi Yes Acquista Acquista Se la temperatura è a 9 o meno Il fantasma è là Se scende sotto lo zero Segnate Ok Andiamo Siete pronti? Mi son prontata Abbiamo tutto quindi Io non ho aggiunto niente Avete fatto voi vero? Io accendino Incenso C'è tutto Ma i calmanti non servono ragazzi Prime mappe Prime mappe Accendino Io l'accendino Io prendo Lamp Eh facciamo un po' alla volta Berta prendi Accendino Incenso Io ho preso Accendino Incenso E temmomemo Ok io prendo la torsa Uv Ok la torsa ce l'abbiamo tutti Io la torsa Uv E il libro Allora Scopri che tipo di fantasma Allora prendo la talkbox Prendo la talkbox Va bene va bene Ah questo è un casino raga Perché leggi? Non abbiamo Nella candela Nel crocifisso Evita che il fantasma Inizi la caccia Utilizzando il crocifisso Rileva la presenza Di un fantasma Con una candela Raggiunge una sanità mentale Media sotto il 25% Quella facile Allora ho fatto Un po' di indagini per te Sembra che il nome del fantasma Sia Jason Harris Inoltre questo fantasma Sembra rispondere Soltanto alle persone sole Dovresti essere in grado Di farlo arrabbiare Chiamandolo per nome Ottenendo così Dell'attività Ok Facile questo Questo è facile Le candele si trovano Anche in casa Quella c'è di Roberta Giusto? Si Ok Non mi fa entrare raga Avete preso la chiave vero? No No Troppo voi raga Ma perché neanche dove si prendesse la chiave? Eh ho visto gli occhi di Roberta da dietro Prese Guardate che stanza Hanno meno di 10 gradi Ragazzi scusate per entrare Devo prendere la temperatura Come non spegno la torta uva? Tasso destro Ok Qua ho 7 gradi e mezzo No 10 Qua? 9 gradi 21 gradi Qua in cucina Si in bagno Non so perché ma accendo i rubinetti Tecnicamente gli dovrebbe dare fastidio Com'è che si chiama tra parentesi? Eh ho acceso una candelina raga Vado a vedere come si chiama Che non l'abbiamo visto Ok Lo so io Leo Lo so io come si chiama Come? Lo so io come si chiama Giato Neri E non dire il nome Dirlo E come cazzo mi chiedi allora come si chiama Tota non devi dirgli il nome Com'è la temperatura? 9 gradi Giustamente Grana dice 9 gradi Se il resto è 21 è sus Veniamo qua nella stanza con 9 gradi Lei è nella stanza di 9 Vediamo se è 9 No è alto E' 23 Ok Perché c'è un Scusate Lo vedete anche voi nello specchio il tipo? Ma è totta Io non lo vedo Io vedo totta Anch'io ma Io non li vedo Io non vedo niente E' qualcosa del fantasma? Ah ecco Io vedo Leo Andiamo giù Mega buggato Oh la luce è in bagno Oh oh qua fliccherà Questa fliccherà della luce Quello vuol dire che fliccherà? Oh ora è Bertra Ragamini un attimo Dove siete? Ok Ok Quanti gradi è? 20 anche questo Ah via via Ti paga le tasse questo? Cazzo amore Temmi giù No no vai tu Io non ho la torcia totta Vai tu Ci sono ci sono Qua paura Oh non c'è più un sembro a terra Eh cambiano ste cose Questa porta è bloccata I gradi? Com'è bloccata? Bertra no È apribilissima Non mi si apriva Fa caldo Raga i gradi? È caldo Anche di qua Anche qua è molto caldo Sì Ok Il resto d'altro Provate a usare le cose però raga Eh? Usate anche voi le vostre torcine Eh io la torcia Uv Sto guardando con quella Ma non c'è molto Vediamo il garage raga Guardate l'acqua e il bagno Si è colorata No No Garage È limpida E gli apro tutto in casa cazzo Gli faccio fuori elettricità e acqua Gradi? Caldo Come caldo? Empa non dice niente Vado a prendere un'altra roba al posto dell'incenso J Prove Ciao ovvero Quindi abbiamo detto Temperatura congelamento no Giusto? Congelamento non l'ha fatto Ma no Dovrebbe No dovrebbe esserci anche del freddo almeno Forse siamo farsi qualche stanza Quindi non c'è il congelamento In cucina siamo andati Dice? Non lo so Così Ricordiamo in chat Bertra non è quello dei gradi quello che è in mano No Non ce l'ho più E allora Cos'è questo dei dot? Bertra prendi i gradi Eh se non è Non ha funzionato Cioè Ma riprendilo Quello è importantissimo Fra È il più importante Di tutti Proviamo a triggerarlo col nome Ma prendi prima il termometro Fatti i cazzo tuoi Tota Vabbiamo prima a trovare la stanza E come la troviamo? Amici Forse la cam E io ho un'altra prospettiva Da qua Cam 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 Leo Vieni Leo Io vi vedo da qua Andate un po' in giro con la luce Andate un po' in giro con la luce Così vi posso dire se c'è il punto luce Io sto cercando le candele Scusate Intendo ovviamente la sfera di luce Oh ma qualcuno qui ha chiuso la luce Qualcuno qui ha spento la luce Ok grazie Bertra qui qualcuno ha spento la luce Eh usa il coso Tu hai il potere di vedere i pulsanti Eh sto guardando Uav ma non vedo nulla Ha spento la mia candela Dov'è? Vedi se c'è qualcosa Qua No Pare nulla Oh oh c'è un botto di luce in cucina raga Non so se c'entra qualcosa Ah no c'è solo la luce accesa vero Bertra Raga mi rispondete? No Sì Eh perché avete tolto la roba? Quale roba? La videocamera Sto controllando la temperatura Ah ok Qua non vedo nulla in giro Madonna avvisami quando fai sta roba Ho una candela Oh lo lascio qua intanto Sì Mi aggiornate? Com'è che si chiamava il tipo? Come si chiama il tipo? Un in garage Un in cucina Giusto? Sì Harris Ok ora Mi accendi la candela qua In cucina? Ah no ora è stata in cucina Ok Ora uno sta all'ingresso Harris Raga c'è stata una leggera attività Tornate dove siete stati prima Arrivo Bertra rispetto la candela Si è inculato la candela Attivate la videocamera Che cazzo è arrivato qua? Dov'è che è? Harris Harris Arrivo Spengo la videocamera Ancora nessuna attività? Avete asciuto la videocamera Così guarda? Sì Se sono aiuti potete fare spoiler No Giusto ragazzi Bertra Penso che se attivi la telecamera E l'appoggi Grazie Uh buone Se attivi la telecamera e l'appoggi Penso che resti accesa E tocca può vederla Dieci secondi fa c'è stata dell'attività Quindi tornate dove state Dieci secondi fa Totta tu vedi ancora dalla telecamera? Totta Sì vedo ancora Vedo ancora Ah ottimo Allora la lascio lì Perfetto Io vi dico cosa vedo L'acqua è colorata L'acqua è colorata L'acqua è colorata Dove? L'acqua è colorata In bagno In bagno In bagno l'acqua è colorata È una prova Fagli una foto Fagli una foto Eh ce l'hai tua Vado 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 Totta coraggiosissima Che resta lì A fare È coraggiosissima Stare nel camion Mi date lo spirit Che gli parlo io Tieni Come faccio Ecco Ok Come si chiamava? Zaison Harris Can you hear me? Zezon Zezon Harris Zezon Harris Il bagno è freddo Il bagno è freddo in culo Spagno porta chiusa Spagno freddo? Spagno freddo? Zezon Are you here? C'è un grado Are you here? Leo ti dicono Fai domande in italiano Senza dire il nome Zezon Sei qui? Uno e cinque Sì è qua e qua Sei qui con me? Spegni la luce Leo Giacomino Zezon Ok io ho la visione notturna Ti dico se vedo qualcosa Zezon mi senti? Zezon Non sto vedendo niente ragazzi Sei qui con me? Le domande sono due Quanti anni hai e dove sei? Quanti anni hai? How old are you? Sei amichevole? Sei amichevole? Sei amichevole? Ragazzi mi parlate per favore Sei amichevole? Sei amichevole? Sei amichevole? Ha detto di no 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 Tornate qua Tornate qua Tornate qua Ma si Si attaccasse Tornate qua Tornate qua Il bastardo ha detto di no Guardate qua possiamo ancora vedere la camera Allora spirit box si giusto Si Eh il freddo c'era? No l'abbiamo sentito No no non è spirit box L'ho sentito anch'io Ah ok Il freddo c'era No però non era di congelamento perché è zero se non sbaglio Penso che sia quello Dicono di mettere il libro in bagno Ok vado a metterlo vi lascio qua la roba Che se muoio almeno resta qui Vai principe R Non era a zero il freddo raga Ok ok Madonna vieni qua che ti metto tutto il libricino Ti faccio fare i disegnini fra Fammi tutti i disegnini che vuoi Fammi tutti i disegnini che vuoi Leo tutto bene Sì sì gli ho messo il libro e ho portato via una candela Bravo Qua non vedo Trovo l'MF io Mi ha spento la luce in bocca Porca puttana mi ha litato Porca puttana mi ha litato Corri scappa c'è il Nemesis Mi sono troppo cagato Sì chat l'ho fatta la foto all'acqua sporca del bagno Aspettate un attimo dobbiamo pensare bene a come agire ora Cosa vedi Leo? Ha scritto nel libro? No ancora no Ok ora che ce li ho vado a Vado anch'io Aspettami le Oh ha lasciato l'impronta nel sale Fai la foto all'impronta del sale Eh ne ha spente Le candele le ha spente Eh allora sarà quello Arrivo subito raga Mi devo portare qualcosa? Ah boh Boh delle coccoline Ah Jason Jason Qui non vedo un cazzo Raga qua ci sono i cassetti aperti A pier Li ho aperti io Li ho aperti io Ah ok Ah cosa dobbiamo fare altro? Eh boh capire che fantasma è Jason Harris Eeeh Chi ha l'EMF? Eh non lo so Penso nessuno Prova a vedere Bertha Magari ti fa vedere cos'è Ok Ok ho l'EMF Qua in bagno Dallo a me che sto creando il contenuto Ah tieni scusa Eeeh Che l'ho buttato per terra Cos'era? Cos'è questo rumore? Eh cos'è questo rumore? Eh Bertha E' l'EMF E' due E' in bagno? E' due E' uno E' due qua In questa zona qua La temperatura Quattro gradi qua raga Sì sì L'avevo già constatato Oh la luce flickera Leo Non c'è più il due 5 gradi cucina qua 22 di nuovo Controlla la porta Leo Sto guardando L'UV E' ormai Raga 0 gradi 0,7 0,7 in bagno Eh allora Congelamento c'è in bagno 0,6 in bagno 3,2 Spendiamo le luci magari 0,2 in bagno Sì penso che Il congelamento c'è 0,1 Aspetta 0,6 Solo sotto 0 E' infatti L'EMF Spegnete La luce State da soli Dai raga tanto dormire è sopravvalutato Secondo me Dai Spengo Harry 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 Sei qui? Eh ma non è da solo Lo so lo so Lo so lo so Ma in realtà mi serve anche la cosa per parlare Ma in realtà abbiamo già visto che mi parlava Ti dicono di controllare anche dall'altro lato della porta con la roba UV Ah ok Provo a vedere No nulla L'UV non fa vedere niente Il Louvre Non c'è un cazzo Non fa niente sto fantasma di merda Vai andate bene tutti Vedo se funziona con il Ok Ok Ma che si chiama Fermi Come si chiama? Eh un attimo arrivo Bertra metti la videocamera che qui ti vedo Ma c'era già la videocamera Si ma dove stai facendo ora? Però la devi mettere Dobbiamo vedere se ci sono le sfere di energia Tipo qualcosa del genere l'hanno detto Sì le sfere di energia Bertra metti la telecamera però dove stai a fare le cose E adesso vado in bagno Bertra è tipo Se me lo sto guardando tipo un film MFA2 Mi ha parlato In culo No 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 E quindi? Quindi impronte digitali trovate raga? No C'è non ho visto nulla con la Con la torsa viola Libro spiritico neanche Le mie fotografie mostrano acqua sporca e interazione Spiritbox non lo usava Cioè andava solo con tutti Guarda Bertra la tua interazione cosa ha creato Ops Oh la porta si sta muovendo raga l'avete vista? No La porta si è mossa Si è mossa? Si si è mossa la porta Oh L'ho visto passare L'hai visto passare? L'ho visto passare Ma in che senso il fra? L'ho visto anche La porta Si Quindi è in cucina Ok mi sto cacando Io mi sto cacando Ha spiritbox e dots Oh l'ho visto anch'io L'ho visto anch'io raga Bertra va in cucina con lasciato lì il telefono Ok è o un wright o un phantom o uno yokai Sale spiritbox Quindi raga la luce La torcia deve essere Scusatemi La videocamera deve essere messa in cucina allora Ma non era il bagno? Eh si Ma è vero il bagno che è freddo raga Eh boh forse è tra il bagno e la cucina Dio andiamo a prendere Andiamo a prendere dai Andiamo Insieme Noi Troppo noi Andiamo Let's go Non ho paura dei fantasmi Harry? Raga 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 Fermi 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 È cazzo qualcosa Dallo Dallo Scappanio del bagno Ha lanciato qualcosa per terra Ah il libro Il libro Può essere il libro in bagno assolutamente Può essere il libro Il libro Ha lanciato in questo momento qualcosa dal bagno Merda Ha staccato la luce Leo dove è scappi brutta Ho lasciato l'oggetto Ha aperto la porta del bagno Ha aperto la porta del bagno Ha spalancato la porta del bagno Cosa vuol dire Berta vieni fuori Vieni fuori intanto Lascio Lascio qua questo qua Che vado a prendere la roba Berta augurami buona fortuna Ah dicono che non lo scrive sul libro Si è passato al doss Però raga Ha aperto proprio spalancato Alla porta del bagno Controllate con la UV la porta Ora che l'ha toccata Vai Leo prova Hai la UV Leo? Leo No non ce l'ho Sto recuperando Sto recuperando gli oggetti Pian piano Sto recuperando gli oggetti Ok il libro non l'ha usato Arrivo Leo Non ha usato il libro Non ha usato il libro Vieni vieni Leo Fammi compagnia Sì sì lascio Lascio già tipo Raga Non l'ha È trasparente È trasparente Che mi ha guardato Madonna che paura Non ha Non ha Non ha Raga Era trasparente L'ho visto Era tipo una figura Trasparente C'è una schienita altissima Quindi 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 cosa vogliamo fare Allora il right Allora L'enf Allora Secondo me Allora Libro spiritico Non l'ha usato Quindi lo togliamo L'enf Non è mai andato Sopra due Quindi va tolto Anche quello Allora No you ray Spiritbox Tu lo usava La temperatura Di congelamento Non c'è Però Zero gradi Sì dai Penso che dai Tre Zero No La temperatura Di congelamento No Assolutamente Ah c'è C'è una prova Di interazione Fermi tutti La prova Di interazione È importante Arrivò Vivo Maggia Che inseguiva Una mosca Se ha l'interazione Vuol dire Che le impronte Digitali ci sono Ma la spirit Cioè ha parlato L'ha sentito anche Bertra Quindi non vale Come spiritbox Oh no Cosa La spiritbox Non è mai andata Sotto lo zero La temperatura La spiritbox Ha parlato Ah hai sentito anche te Bertra No Boh mi sembra di sì Eh ma noi l'abbiamo vista Attraverso la cam Perché c'era il Il puntatore dots Quindi effettivamente Il dots c'è Sì Ci dicono che la spirit Ha parlato Non c'entra Che l'abbia sentito Ok Ma il puntatore dots Perché l'avete tolto? L'ho riportato qua L'ho riportato io qua Ah ok Io l'ho messo Nella roba Piazzalo Piazzalo in bagno No ma l'ha attivato Il dots Ma com'è che si vede Su l'attiva? Che paura Come si capisce Se l'attiva o meno? Eh c'è L'icona Il fantasmino Quando l'attiva Ah ok Ma le impronte digitali Ci sono o no? No Non c'era niente Dalla uva Però ha toccato Il sale coi piedi Quindi? Eh Quella non è un'impronta Cioè se non vedo niente Con gli uva Ho girato per mezz'ora E anche te Non c'era niente Allora è O un yokai O un wright Eh No A me ho uno yokai O un phantom Perché no Le impronte digitali Non ci sono Devi toglierle Sì sì Ah ok E allora è uno yokai Basta Yokai? Il dots l'attiva Il dots l'ha attivato Lo so Eh Dot deve avere le X Spiritbox deve avere le X Impronte digitali Libro Barrati Mf non l'ha fatto Al 5 No E allora è solo yokai? No Può essere yokai O raid No se vai a mf al 5 Che non l'ha fatto Wright va via Eh infatti Ah non l'ha fatto Mf al 5 Non l'ha fatto C'è arrivato un 2 al massimo La temperatura devi sbarrarla Allora yokai L'avete cercato yokai? Abbiamo preso tutto? Sì 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 Ok chiudo Vediamo se aveva ragione Vediamo Siamo vivi No Era un wright Era un wright Fuck E allora Però le fotografie ci hanno fatto 15 dollari Eh 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 Sì Cos'è che ci siamo indovinati? Cioè cos'è che ci siamo drogati? Eh no idea L'Mf al 5 non l'ha mai fatto allora Eh perché il wright appunto ti diceva Mf al 5 Siamo dei pessimi cazzatori di fantasmi Ci sta dai Però è attento questo gioco mi piace Sì sì è molto bella Sì Fa venire la caga La caga sbura Comunque se noi possiamo Chiudere la rec E fare un po' di just chatting 10 minuti e staccare Sì sì va bene Volendo sì Vai chiudiamo la rec Ok Non io che stavo per spegnere la cam di brutto Bello Ok ok L'Mf non l'ha fatto perché non l'avete provato Dovete chiudervi da soli Ah Troppo noi che siamo tutti mutati su disco Ok ci sono Eccomi Grazie dei bittini Tia Ok ok ci siamo Ah Ma dai è stato È stata un'emozione È stato entusias Entusius Divertente sto gioco Mi ha fatto venire il pittino Tipo ritto Beh no Non esageriamo dai Ma è piaciuto anche a me Cioè Se poi capiamo come va fatto bene E non usiamo tutto il cazzo di cane Molto meglio Sì Però dai Sono fiera di noi ragazzi Degno di Rifare delle partite Magari da Tipo dalle due di notte Mai nella vita Non giocare Senza luce Senza luce alle due di notte Lo facciamo Cioè inteso con le luci così tipo Leo ma tu stai mangiando Beh avevo qua davanti la burga Ogni tanto gli davo un morsetto Infatti è tutto quanto freddo Sai cos'è Cosa non è freddo Il tuo culetto Esatto Così facciamo Così Andate a farlo Irla Ricordo che questi video usciranno anche sul canale di gaming Quindi andateci a seguire Yes Sì amichetti gaming Adesso registriamo Esce Questo video qua esce tra dieci minuti sul canale di gaming Sì Questo video raga esce fra dodici secondi Eh già siete in ritardo Non l'avete visto Mi spiace ragazzi Infatti raga Già c'è qualcuno che ha scritto primo al posto vostro Facciamo Un giorno facciamo una live full recitata Ci studiamo il copione e tutto quanto In realtà abbiamo registrato da prima E finita la live Facciamo Ok ragazzi potete andare a vedere il video editato di questa live E sul canale trovano Uguale identica Editato Con le stesse battute e tutto Non ho capito Cioè noi registriamo il video E lo editiamo Poi andiamo in live Col copione di quello che abbiamo detto nel video editato La rifacciamo identica E finita la live Facciamo C'è già sul canale Guardate editata E loro la trovano E' pure bella E' pure bella cosa da compiere oggettivamente Madonna io sono distrutta Non so perché Anch'io Anch'io sono annichilito raga Io mi mangio l'hamburgerino intanto Domande non ce ne sono già starting Ciao amici ma che bello Al video di oggi Dipende cosa è scritto Probabilmente io C'è troppo noi il fatto che comunque abbiamo fatto una live di gaming Dipende cosa è scritto Su quale canale Eh il video di oggi è l'unico video che è uscito Ah no ok Non aveva detto il video di oggi Sì sì Ha letteralmente detto il video di oggi Ah ok Scusa Vero vero C'è stato scritto oggi C'è stato scritto questo video della giornata odierna Facciamo quelli che vanno Che in realtà Cioè la live in l'abbiamo fatta Passpocopia È vero che pubblicherete due video a settimana No è sbagliato È sbagliato Sono tre raga Tre Cazzo Tre sul canale di gaming Tre sul canale di gaming E praticamente due al giorno sull'uncut Oh cazzo Devo fare il miniatore per domani Che vita di merda It's your moment Il momento gaming Allora ragazzi sto ancora pensando al mio video Che mi ha autodato il copyright Questo cosa fa troppo ridere Non la supero questa cosa Sai cos'è che non supero io? Il tuo voletto Nessuno in autostrada Perché è pericolosa Uh non devo fare le miniature di domani Le ho già fatte Ma quanto sono forte Scusate Stavo Mancano le miniature di niente Guarda sono tutte fatte Per questa settimana le hai fatte tutte Come per questa settimana? Eh no manca la domenichetti Ah Peccato ci ho sperato anch'io Vabbè devi fare Sono due video la domenichetti giusto? Pappa e chiacchiere si Ci sto Madonna raga Ok Il grindset Assoluto Bellissimo Sono felice Cioè sono proud Dai è stato bello È vero che anche Berro ha avuto l'autocopyright Cazzo È vero Berro ha avuto il copyright su youtube per una sua canzone Ma? Ha messo la sua canzone su youtube e ne hanno dato il copyright arrivato dal suo gruppo Però che non lo aveva mandato Ma? Sempre lo copia è così La serie hardcore la porterete editata anche su Uncut Su Uncut raga Però potete vedere la vanilla ogni domenica praticamente Esatto No senza praticamente scusa Praticamente è corretto Mico ho detto ipoteticamente Bertra? Dimmi sono morto zi Anche io ma Il mio cervello si sta a spegnere Va bene dai Abbiamo i fantasmi nel cervello È il momento di dire ciao ragazzi Iniziamo un ciao secco Un ciao ride Ciao secco Ciao secco Anzi dai Facciamo il ride Facciamo il ciao ride Facciamo il ride Dai a Emerald L'ha detto L'ha detto L'ha detto il gatto di Bertra Facciamo il ride Ciao È Emerald Emerald? Ah così Dai abbiamo fatto Uscito il video con lui Oggi mi sembra giusto Ma è live Sì sì È il gatto momento Ma che è in live Oh lo vedo qua Davanti a me Ah ok no Ok Lo trovavo Ok sopra che noia Perché riusciremo a raggiungere questo È il gatto momento Fermo 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 Sta chiudendo Si sta chiudendo Tutti stanno scrivendo notte Andiamo da Tirlos Che noia sta facendo Surgeon Simulator Ok Andiamo da che noia Sta facendo Valorant Che noia Ah ma che cazzo Vai vai Che noia Ok Ok Mandata Adesso stiamo preparando un ride ragazzi Abbiamo ancora finito Giornata al ride Come sempre vi ricordo Che domani alle 16 Esce un nuovo video Dove? Perché sei esplosa totta? Sul canale gaming Ora faccio esplodere anche Bertra Ok Ora faccio esplodere totta O no io Ora esplode totta Ragazzi Siamo vedendo domani sul canale di gaming Anche la schedula esplode Oh Rimanete solo voi Esplodete Rimanete solo io Oh no